Ciao raga, bentrovati sul mio canale YouTube, oggi è lunedì, analisi gameplay ma stavolta raga non vi porto un torneo o cose del genere, vi porto la partita più scriptata della storia, vi giuro io non ho mai giocato una cosa del genere prima d'ora, a me è successa ovviamente Weekend League, ovviamente sulla partita a scalino, quindi gli ingredienti per il disastro perfetto c'erano tutti, quindi ci andiamo a vedere questa partita, mettetevi comodi perché va sicuro che sarà piena e ricca di colpi di scena fino all'ultimo secondo, quindi arrivate fino alla fine perché veramente ne vedrete delle belle, quindi senza perderci in chiacchiere passiamo subito alla visione del match, vedete che attacco da sinistra verso destro in questo primo tempo, vedete che per terra ci sono i magici, i coriandolini, quindi già qui si iniziava a capire che la partita avrebbe regalato gioie e difatti è proprio quello che succederà, inoltre potete anche vedere un esotico gameplay dove la palla non rotola ma ben si saltella ovviamente, Weekend League che ormai ci ha abituato ad avere un gameplay paradossalmente imbarazzante, penso che l'ultima partita che ho giocato è Weekend League con un gameplay discreto risale all'epoca del 15-18. Qui subito cerco di imbucarmi con Bappé ma purtroppo non riesco a bucare, tra l'altro contesto ero 13-0 quindi è una Weekend League che stava andando anche abbastanza bene e la stavo giocando, mi sentivo sufficientemente confident però, vedrete, 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 non voglio dirvi altro, lui qui ha cercato questo cross, recupero il pallone. Dalla preview la sua squadra non sembrava eccezionale, difatti vedete come cerco un po' di forzare anche le giocate rendendomi conto che magari avrei potuto affondare il colpo visto che ero in live da 8 ore, avevo detto è l'ultima partita, insomma volevo sbrigare la pratica in maniera abbastanza veloce. Però sapete che questo è un errore grave perché non bisogna mai giocare con furia, infatti guardate qua come esco male con Varane quando avrei dovuto prendere Renato Sanchez, lui si butta dentro con sto Gabriel Jesus fino in fondo, poi fortunatamente vado a fare una diagonale molto molto clean con Mendy. Quindi rilancio subito l'azione verso Cristiano Ronaldo ma ancora una volta cerco subito il filtrante, raga vedete come vado molto 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 diretto, cosa che non va mai fatta, bisogna sempre cercare di mantenere la stessa concentrazione in Weekend League che si ha in ogni partita e che altrimenti poi si sottovalutano agli avversari e si creano frittate. Qua ottima giocata tra Kulu e Ronaldo, vado a buttarla dentro con il destro, qua veramente un gol molto molto pulito qui. Nel mio cervello già mi si era accesa una lambadina, ho detto bah, hai visto mai che mo' magari gliene faccio un altro? Questo qua se la quitta è un'allegria, se la quitta è un'allegria. Mamma mia non l'avessi mai detto, raga ve lo giuro, ve lo giuro, voi vedrete, vedrete, è lunga, è lunga, è lunga, è molto lunga. Lui non si perde d'animo, chicco fino, matto, si butta dentro con Bappé, qua vado totalmente a barro con Cancelo, invece di rimanere a temporeggiare, cerco di overpredictargli troppo i movimenti, poi per fortuna il mio amico coppolaro Yashin, infatti in suo onore ci ho piazzato la coppola, riesce a evitare quelli che sono qua i peggiori. Mané cerca di rilanciare l'azione del nostro avversario, ancora lui, vedete, al limite dell'area con Neymar Junior, io qua indietreggio con Cancelo, capendo che il suo era un tentativo di tunnel direzionale, quindi questa è pure una situazione che vi posso far rivedere, no? Quando lui si trova in questa porzione di campo, ok? Voi capite che magari vuole cercare di farvi il tunnel, quindi che cosa fate? Invece di andare a stringere qui, favorendo poi il suo movimento a saltarvi di netto, dovete semplicemente andare a fare un movimento ad indietreggiare per coprirgli più o meno quest'area, ok? Quindi è così che si difende il tunnel direzionale quando me lo chiedete, vedete, io infatti indietreggio, gli vado a coprire la linea di corsa e con Cancelo completo il disimpegno. Guardate però come cerco sempre la solida giocata, col 4-4-2 cerco questi scambi rapidi perché voglio andare avanti di 1-2, qua faccio un ottimo speed boost, volevo fare la Megidi cancellata, non la riesco a cancellare, quindi lui poi riesce a recuperare il pallone. E qua in buca, con sto filtrantone Gabriel Jesus, io arrivo fino in fondo con James, ma faccio un errore, perché? Allora qua innanzitutto l'ho selezionato d'arti. Qui invece di stringere la corsa, ho cercato di coprire quanto più spazio è possibile, perché ho detto, porca miseria, ma Gabriel Jesus è sul sinistro, si dovrà fermare e rientrare sul destro? E invece lui no, mi ha tirato dritto con un'ignoranza fatale e me l'ha buttata dentro. Quindi 1-1 al 25esimo Gabriel Jesus si è fatto un costo-to-costo pazzesco, quindi anche per rispondere alla domanda a come si difendono i filtranti, raga dovete selezionare preventivamente il difensore centrale e correre all'indietro, cosa che io ho fatto ma male, perché invece di stringere la corsa dell'avversario, ho cercato di coprire in vano lo spazio, quindi male, Riberoski, auto-coaching. Qui lui poi, passano due minuti, si butta dentro e segna così. Rivediamolo, rivediamolo al VAR. Filtrantone, tra l'altro già il filtrante, parliamone di questo filtrante, perché fondamentalmente io qua con James mi piazzo davanti, ok? Sembrava fuori gioco, lui dà giustamente la palla dentro a Mbappé, poi l'ha presa di testa, Mendy, Mendy l'ha presa di testa, raga, e gliel'ha buttata sul piede di Mbappé, guardate, Mendy che tra l'altro non era manco selezionato, a Gadan ha fatto, e 2-1, in tre minuti. Se capovolta la partita questo non aveva visto il pallone, 2-1. Teorema di Mike Shosh all'opera. Quindi 2-1, cambecca tutto, devo rincorrere, e ovviamente qua iniziavo a sentirmi attapirato, perché il mio bel progettino, mi sfregavo le mani, ha ha ha, mo faccio quittà, mo questa partita qua molto molto easy, e invece nel giro di 5 minuti sono passato da 1-0 a 2-1 prendendo gol da Gabriel Jesus e sul rimpallo da Mbappé. Qua faccio il tunnel, cosa che avrei potuto anche evitare, perché nel momento in cui io creo questo isolamento, guardate, questo qua, è inutile il tunnel, e lì ho qua, faccio tacco-tacco, mi sono liberato, tiro-segno. Il tunnel invece non mi ha fatto altro che perdere contatto del pallone, perché ovviamente se lo butta in avanti, cosa che non succede col tacco-tacco, e vengo chiuso dal ripiegamento in difesa del suo Viera 88, palesemente giftato dalla EA, quindi spreco subito l'occasione per poter ritornare in partita, peccato perché era kick-off, quindi, sai, anche per quello ho fatto il tunnel, perché speravo che magari, sai, c'era quel bustarello dell'azione post-kick-off. Qui esco malissimo con Renato Sanchez, perché volevo andare a anticipare la giocata, poi, per fortuna, riesco a completare il disimpegno. Qui vedete che cercavo in qualche modo di far scattare Cristiano Ronaldo, cosa che non succede. Vedete come mi sono innervosito, si vede proprio, guardate, cerco passaggi che non esistono, anticipi per recuperare subito il pallone forzati. Questo però ne approfitta, si fa sto tunnel, vince un altro rimpallo ambiguo, palla dentro verso Neymar. Io qua sono bravo, però, a non abboccare a quelli che sono i suoi movimenti e con Varane completo per l'appunto il recupero palla. Stavolta la palla, invece, viaggia pulita sui piedi di Cristiano Ronaldo, scoop turn, se preceduto dalla suola. Qui con Bappé al limite dell'aria, invoco il ref, ma purtroppo Teo, per l'arbitro, ha compiuto un intervento pulito. Qui con Varane, intervento su Gabriel Jesus, che vince il rimpallo, con James non riesco a recuperare il pallone, poi con Cancelo, per fortuna, evito che quel Neymar riesca ad aggredire la porta. Cerco di ripartire con Brunello Fernandes, vedete che dopo le tattiche col 4-4-2 lo faccio salire, quindi vedete come va a caricare anche la fase offensiva, però ancora una volta vado a sbattere sul suo muro difensivo. Qui ancora vado troppo alto con Varane, troppo alto con James, mi passa un'altra volta la palla e mezzo, ovviamente, a lui. Meno male che poi arriva il miracolo fatto con la diagonale di Cancelo, perché altrimenti sarebbero stati quei peggiori. Però guardate, regà, sembro... non lo so, tiro dritto, ero palesemente stanco, cercavo in tutti i modi di rimettere in piedi sta partita, ma in realtà sto semplicemente facendo il gioco del mio avversario. Quindi primo tempo che si conclude sul 2-1 per lui, appunto, con il kick-off a favore del secondo tempo. Quindi già avevo capito più o meno come la partita si stava mettendo e alzo il livello di attenzione. Qui faccio un'ottima chiusura con Renato Sanchez, però la palla ovviamente gli ritorna. Con Varane qui recupero il pallone, ma ovviamente gli ritorna, perché è il kick-off della quattordicesima partita. Palla poi, guardate, con Brunello, che lui la fa addirittura tornare così indietro, va in fascia con Cancelo, mi faccio un attimino, insomma, raggirare, e lui mi va a segnare il 3-1 sul kick-off dopo aver vinto 12 rimpalli in una partita che fino ad ora di Pulito non aveva avuto niente, perché mi sono preso un gol di sinistro di Gabriel Jesus dopo che mi ha bucato sul filtrante, un gol di rimpallo dopo che Mendy ha deciso praticamente di vendersi la partita e un kick-off dopo 3 rimpalli, quindi al momento siamo 3-1, quindi gioco 3, Riberoski 1 al momento, e praticamente la partita a questo punto si mette male. A breve vedrete che dovrei cambiare tattiche, arriva la cosiddetta mossa del mister, come la chiamo io, perché al momento sono gol 4-4-2, però vi faccio vedere che appunto chiedo la pausa perché voglio sfoderare il mio magico 4-3-1-2 per recuperare la partita, perché non vi sto a raccontare frottole, è anche appunto un modo per vedere come recupero io le partite con quel modulo, qui ancora una volta un rimpallo, fortunatamente ci mette una pezza Mendy, filtrante che non va a buon fine, recupera ancora una volta lui il pallone, molto ordinato lui, alla fine sta giocando su quelli che sono i miei errori di nervosismo, qui addirittura si concede un tacco-tacco con Viera, un tunnel con Gabriel Jesus, che vince un rimpallo, mi salta secco, palla dentro, Neymar, 4-1. Vi farei vedere le risate, anzi le vedete, le vedete di Riberoski sopra le risate, perché sono uscito dall'inquadratura, avevo messo pause, poi mi sono triggerato, ho detto no vabbè, rimango così e vabbè tanto finita, poi mi è partito l'orgoglio, mi è partito l'orgoglio, per cui adesso già, esatto, vedete rimetto pausa, quindi dico no, sta mossa la voglio provare, perché la voglio provare, secondo me si può svoltare, quindi vedrete quello che cercherò di fare a breve per recuperare le partite, qui con Neymar vado a recuperare palla in zona alta, cerco il movimento di Bruno che non arriva, Ronaldo cerca supporto che non c'è, Neymar si gira, cerca un tunnel che ovviamente non trova il rimpallo, qui mi regala pallone, ancora palla poi per Kylian Mbappé, tutto molto molto clean, palo, tutto molto molto clean, era costruzione della manovra pazzesca, Mbappé Todi ma ha preso il palo da lì, quindi contestualizziamo, minuto 62, palla che non esce qui con sta sforbiciata volante che diventa buona per Bruno, con James faccio un'ottima diagonale, qua mi parte la brocca, mossa del mister, rombo, terzini offensivi, fuori Mendy, voglio cercare di giocarmela con il Sharawi terzino che si propone, butto tutti sopra, metto avanza su Bruno Fernandes, avanza su Kuluseski, rimani avanti sul C.O.C., di tutto e di più, per andare a pompare sta partita, guardate come alzo la profondità, manovra veloce, giocatore in area, veramente lo provate di tutti, siamo comunque al 64esimo, calcio d'angolo, lui con Gomez la spizza, cerco io di ripartire in contropiede, quindi visto che ormai giocavo, stavo cercando di giocare molto rapido, ho detto a sto punto, allora mettiamo il 4-2-2 e proviamoci, palla allargata verso Cancelo, vedete subito come inizio già a diventare più pericoloso, guardate quanti giocatori ho, palla subito dentro per il Sharawi, subito si presenta così, 4-2, lì parte la, l'hai partita la rimonta, regala garra, lì mi si è accesa la lampadina, ho detto no, io sta partita mo, con la mossa del mister me la devo portare a casa, quindi 67esimo, il Sharawi appena è entrato, grazie al cambio di modulo, avete visto quanti giocatori avevo sopra, la butta subito dentro, qua ci ho provato a farmi fare il kickoff, guardate come ci ho appostati sti tre villani sulla linea del centrocampo, per andare ad offendere subito rapidissimi, con il 4-3-1-2, cerco di scivolare qua, con Renato, con Kuluseski vado a recuperare il pallone, lui vince un rimpallino, faccio uscire per fortuna Yashin, San James sulla linea, va a evitare per cortesia il gol del 5-2, filtrantone epico, questo qua verso Cristiano Ronaldo, finta di tiro, giustamente aspetto e rinforzi, arriva Kuluseski, Neymar, Cristiano Ronaldo, Ronaldo, vede ancora lui, è il Sharawi, 4-3, la mossa del mister, quella azzeccata doppietta, in 7 minuti è entrato, è il Sharawi da terzino, che si sovrappone, ha cambiato la partita regà, 4-3, quindi partita che, è totalmente riaperta, con questo schema a trazione, che dico anteriore, di più, quindi siamo ormai rientrati, qui faccio un errore, perché appunto volendo giocare, forse tranquillo, sapete, per recuperare la partita, faccio scattare bene Ronaldo, guardate qua, su questo incrociato, ho il passaggio di prima, guardate qua, ho il passaggio di prima, però non l'ho visto, ho cercato di girarmi e rigirarmi, su con Neymar, e purtroppo non ha, non ha pagato questa cosa qui, guardate come difendo altissimo, con Varane, per cercare di rilanciare l'azione offensiva, Bruno Fernandes, conduzione di palla, molto ragionata, ancora una volta per Neymar, che ovviamente da C.O.C. si fa vedere molto di più in queste battute, Ronaldo poi sbaglia un passaggio, che è veramente qualcosa di allucinante, arriva Bruno Fernandes, come un treno, a recuperare palla, ancora poi Neymar, vedete che aspetto, arrivino tutti quanti i giocatori, che volevo far salire, Ronaldo poi allarga nella zona di Cancelo, quindi terzini che si sovrappongono, 4-4, gol che nasce, lo mandiamo anche a mescolare, perché ci insegna il maestro Olli, guardate qua questo gol ragazzi, nasce totalmente, grazie al modulo, perché io con Kuluseski, costruisco l'azione, con Bruno Fernandes, arrivo su Ronaldo, vedete che qui abbiamo Cancelo, che fa superiorità numerica, è pronto a buttarsi dentro, e infatti è proprio quello che succede, si butta dentro, segue quella linea lì, palla col doppio tap, tiro di prima con Cristiano Ronaldo, cioccolatino, facile facile per la rete del 4-4, mette pausa lui, io ovviamente ne approfitto per andare, a operare, un po' di cambi, vado un attimino a rallentare, il forcing, ho tolto i terzi offensivi, ma rimango col 4-3-1-2, perché vedevo che lo mettevo molto in difficoltà, qui lui cerca subito di kickoffarmi, ovviamente, perché non ve lo sto manco a dire, questa partita, voi pensate che è finita qua, ma in realtà non è così, perché questi ultimi minuti, scivoleranno in maniera abbastanza lineare, lui cerca il tunnel qui con Dybala, ovviamente sinistro, so che deve rientrare, guardate il Sharapi che bello giocatore, come rientra, anche in difesa, cerco io l'ultima azione, 89esimo, però purtroppo, Kuluseski era bellamente in fuorigioco, a sonnecchiare, quindi, lui si va a giocare quest'ultima azione, chiudo io con Varane, poi decido che giustamente è bene portarsi a casa il pari, vista come si era messa la partita, quindi parità, e andiamo ai supplementari, supplementari che non ve lo sto neanche a dire, si inaugurano col più classico dei kickoff, perché lui la palla la dà lì, ah non è vero, non è vero, scherzavo, il kickoff l'abbiamo salvato, no, però ricordavo che succedeva una cosa del genere, ok, quindi il kickoff lo salviamo, io qui faccio scattare Mbappé, ritardo il filtrante con Neymar, avrei potuto servirlo, vado poi a cercare con Renato, un'altra volta l'imbucata, che però non c'era in quel caso, Bruno Fernandes, ancora la palla per Renatino, dentro verso Cristiano, Mbappé viene in questo caso rimpallato da Teo Fernandes, Brunello del nostro avversario, cerca di rilanciare l'azione, guardate io come difendo altissimo questo 4-3-1-2, perché ormai mi ero giocato il tutto per tutto, anche nella ripresa e buonanotte, io qua faccio una mezza fittata, perché sono uscito un po' alto, però poi voi mi dovete spiegare sta roba che cosa mi significa, cosa mi significa, che qua io esco male con Varane, faccio uscire il portiere per spaventarlo, con Renato gli levo il pallone, questo tira una saracca di prima con Bruno, così, che non ricordo neanche che versione sia di Bruno, che a breve vedremo sullo schermo, ok, almeno era il Potm, ma di che cosa stiamo parlando, dove è volata quella palla all'incrocio, cioè mi sembra un attimino una follia, terzini offensivi non ve lo sto manco a dire un'altra volta, per cercare di recuperare la partita, e appunto sono andato avanti, vi spoilerò quello che è il kick-off, faccio scattare Mbappé sull'incrocio, grande filtrante di Neymar, arrivo davanti alla porta e qua la trollo, perché avrei potuto continuare a correre, tacco tacco sulla lo scartavo, invece mi sono fatto prendere dalla foga, primo tempo che supplementare terminerà così senza gioie, vado a rialzare totalmente la pressione, e arriviamo dunque nella ripresa al 106esimo, quindi col kick-off in mano al nostro avversario, sul risultato di 5 a 4, quindi una partita che veramente ha regalato gioie a destra e a sinistra, qui con Neymar un passaggio facilissimo verso Mbappé Totti, che purtroppo non arriva, cerco in questo caso la giocata, guardate rapida, tra le punte, mi chiamo il C.O.C., coinvolgendo poi El Sharawi, che era stato il jolly del secondo tempo, che però era un po' mancato nel seguito della partita, qui con Mbappé vado a fare una serie di numeri, salto l'avversario, e metto dentro la rete del 5 a 5, lo mando a mescolare, perché lo mandiamo a mescolare ovviamente, vado un'altra volta a togliere tutte quante le tattiche offensive, eccetera, eccetera, e quindi al 111esimo siamo 5 a 5, quindi praticamente il risultato da massimi punteggi delle Rivals, quando siete mercoledì sera, volete fare il massimo punteggio delle Rivals, vi snapperate e fate 5 a 5. Kick-off, lui si lancia dentro, palla per Dybala, rimpallo, è gol di Mané, e che fai? Non lo fai un altro kick-off su un altro rimpallo? Che fai? Non lo fai? Eh no, è che fai? Un'altra volta, pressing e tutto quanto, modulo ultra-offensivo, quindi vedete come switchavo dal 4-3-1-2 un po' più conservativo, a quello super-offensivo. 114esimo, 6 a 5 per lui, palla che cerco io di smistare come al solito per farla roteare in cerca di spazi su sto kick-off, Raffaele Varane vede Neymar, Neymar palla dentro verso Cristiano Ronaldo, Ronaldo buoni numeri, cerco con calma di servire Mbappé, mi giro, arrivo all'interno dell'area di rigore, tutto tutto chiuso, casca Mbappé, rigore, incredibile calcio di rigore, al 117esimo, Mbappé si è menato per terra, ringraziando al signore, l'arbitro ha deciso di fischiare, calcio di rigore, se ne incarica Bruno Fernandes, calci di rigore con i quali ho un rapporto pessimo, lo butto lì, e finalmente segna un rigore dopo anni in partita, 6 a 6, quindi 118esimo, è partita che ormai si appresta alla fine di De Voi, e no, e no che non si appresta alla fine la partita, perché è ancora tutto aperto, lui sbaglia, sto passaggio a caso, sanguinosissimo, palla dentro verso Cristiano Ronaldo, Kuluseschi messo terzino, mossa del mister, si sovrappone, numeri di Kuluseschi, palla dentro, Neymar, Cristiano Ronaldo, suola, pum, sotto l'angolino, 120esimo, 7 a 6, tutti per terra, mescolata di deltoide, guardate come gira bene Cristiano Ronaldo, è il momento più poetico tra 3, 2, 1, ha, volevi vincere questa partita, regalata dal gioco, amico mio, e invece no, vinta, 7 a 6 rega, è una partita folle, vi giuro, la partita più assurda che io abbia mai giocato, in Weekend League almeno, partita veramente, no sense, vedete, io da lì mi stavo toccando cuori, cose, robe, stavo veramente percependo del malessere fisico, quindi questo per farvi capire cosa, che, è finita si dice alla fine, fondamentalmente, una partita è aperta fino all'ultimo secondo, non dovete mai scoraggiarvi, anche se vedete che tutte le cose vi vanno contro, in un modo o nell'altro, si può sempre cercare di rimettere in piede, regà, è vero, il gioco alle volte vi osteggia, però non deve essere una scusa, dovete cercare fino all'ultimo secondo possibile, di rimetterle in piedi, come vedete è possibile, quindi, ragazzoni miei, fatemi sapere di sta partita che ne pensate, con un bel commento, vi ricordo un like, iscrivetevi al canale, in descrizione trovate tutte le info per le live sulla piattaforma viola, è nulla ragazzi, a me non resta altro che augurarvi una giornata, una buona giornata, è venuta l'ansia, arriva di sta partita, vi giuro, un saluto nel vostro Liberoschi, ciao ciao!